Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, lunedì ovviamente, eccoci con una nuova puntata di Radio Catalan, sabato l'abbiamo pronunciato, questa settimana non ci sarà il padrone di casa, possiamo dire così, Michele Serra, quindi proveremo a sostituirlo degnamente io e Dolores. Quest'oggi con noi Francesco Pepe, presidente provinciale del PGS, benvenuto Francesco. Grazie, grazie per l'ospitalità. Con lui magari parleremo poi anche del centro commerciale naturale, del centro storico, visto che è anche uno dei referenti di quella realtà, però quest'oggi vogliamo parlare soprattutto del lato sportivo. Francesco, sì, perché ovviamente questo fine settimana si sono svolte le finali di futsal, però la settimana passata ci sono state anche quelle del calciotto. Come è andata? Una bella giornata di sport, anche il tempo mi sembra sia stato anche abbastanza clemente, soprattutto per le prime azioni, visto che poi avete giocato al chiuso in realtà. Esatto. Sì, è stato, nonostante il maggio abbastanza incerto, come si dice in questi casi, per quello che è stato il meteo, che ormai ne parlano un po' tutti di questo maggio, però di fatto sono state due giornate tutto sommato gradevoli, belle, insomma, ben partecipate e ben vissute. Abbiamo avuto ospiti, circa 250 atleti, poi avendo un pochino dovuto alla Sardegna, tra lo step iniziale del calciotto, dove abbiamo giocato al campo Sporting, mentre per le finali futsal, che sono proprio freschissime di ieri, abbiamo giocato al Palacorbia. È bella la struttura, tra l'altro, visto che è citata quella dello Sporting, che si adatta bene anche a ospitare, perché hanno eventi di un certo tipo, insomma. Sì, è una struttura in fase di completamento, è una scommessa in pratica, perché comunque è stato forse, dopo tanti anni, il primo vero impianto che è stato un pochino messo su da zero nell'ambito delle offerte sportive. Si presta a tante situazioni, tanto è vero che quello è il fulcro del calcio dei bambini, che abbiamo seguito quest'anno e stiamo continuando con il successo a seguire. Si presta anche abbastanza bene, essendo comunque persone che trattiamo, insomma, con l'amatoriale, comunque la fase del terzo tempo è molto importante. È vero, soprattutto le arrostite queste cose qua. Soprattutto adesso che arriva una bella stagione. È vero, a parte oggi che sta piovendo, non si capisce. È un maggio, un po' o un marzo, però va bene. Non si capisce bene in che stagione siamo. Tra l'altro, diverse squadre algheresi protagoniste, tra l'altro, nelle finali di ieri, forse anche quelle di Calciotto, mi pare, no? Calciotto, c'è stata i Coopera, che è arrivata al secondo posto, è la squadra di... Terzo tempo. Terzo tempo che è arrivata, vabbè, quarta, va bene, però siamo fatti valere comunque sul campo. Ha vinto, nel caso specifico, una squadra di Cagliari, TikTok, o TikTok, o TikTok, forse TikTok, se non ricordo bene il nome. Comunque hanno mostrato comunque un passo decisamente sudamericano, come si dice. Beh, ma giù mi sembra che, poi, vabbè, io sto comunque anche vedendo, per la mia piccolissima esperienza, poi recente anche di dirigente della scuola di calcio a 5, che purtroppo nel capo di sotto sono avanti da questo punto di vista, no? Mi pare. Diciamo che noi siamo bravi perché riusciamo a organizzarci in poco tempo, solitamente abbiamo questo piccolo pregio nel nord Sardegna. Di fatto nel sud Sardegna, sia nel futsal che nel calcio a 5 classico, cioè quello all'aperto, per capirci, che nel calcio a 8, ma anche nel calcio a 11, ovviamente hanno 4-5 lustri di vantaggio, di pratica, e quindi hanno avuto modo di sbagliare, sbattere la testa, rialzarsi, risbattere la testa, finché non hanno trovato la formula giusta. E comunque ci sono persone che sono nate e consolidate verso una disciplina. Nel caso del futsal, ad esempio, che squadre che giocano, l'avete visto sicuramente anche voi, da 15, 20, 25 anni, hanno formato nuclei di calciatori, giocatori che sono nati praticamente col futsal, quindi non sono usciti da altre discipline, come nel caso a volte le calciacinque, che molti escono da calciatori, insomma, quindi sono nati proprio con quelle discipline lì. Calciotto probabilmente si mette in una linea un pochino più amatoriale, perché adesso, soprattutto nella zona di Alghero, si sta legando soprattutto al canale di over 35, medio, quindi l'utente medio è dai 35 ai 48-50 anni, quindi... Magari chi ha giocato a calcio fino a poco tempo fa si butta, no? Si, mastica un pochino meglio, esattamente, mastica un pochino meglio. Anche se devo dire, anche sul futsal, che noi seguiamo sempre come prima passione, devo dire che c'è stato un ritorno di fiamma anche su quelle persone, chiamole così, un pochino più stagionate. C'è un ritorno di fiamma, no? Ad Alghero anche in generale, visto che ci siamo quest'anno, nelle ultime stagioni anzi, possiamo dire, però in quest'ultima soprattutto due formazioni algheresi che si sono fatte valere nel campionato regionale di C2, vuol dire anche un po' un ritrovato, possiamo dire, entusiasmo anche in questo sport. Ricordiamo i tempi d'oro anche dell'Alghe Calcio a 5, insomma. Si sta provando a ricostruire qualcosa del genere, secondo te? Secondo me, beh, intanto è lampante il fatto che più che si sta provando si è costruito qualcosa, secondo me, anche di carino, è tutto sommato valido a punto di vista locale. Il fatto di avere due squadre che tutto sommato, una sei benissimo tu che sei parte in causa, che comunque recentemente, nate relativamente da poco, la vostra è addirittura freschissima, ma l'altra è fresca uguale, l'altra è in realtà quella dell'Odax Algherese, parliamo di forse 3-4 anni, adesso francamente qualcosa del genere, però già vedere il secondo e il quarto posto in un campionato, comunque super competitivo, perché comunque lì nessuno regala niente, lacrime e sangue, come dico io quando si parla della C a scendere, insomma, un po' l'orgoglio che lo fa anche da padrone rispetto alla parte tecnica, vedere due realtà che comunque si pongono lì e si giocano comunque i play-off, inciampata all'Odax, ma comunque ha giocato un'ottima partita con molte assenze, voi avete vinto, non c'erano, purtroppo per questo impianto. Bene, ma anche in modo sofferto. Bene, ma sofferto, perché comunque... Normale, normale, i play-off. Sì, esatto, nessuno regalcio, sono partite secche, è chiaro che non stai lì a fare l'agnello sacrificale. Quindi, bene, bene, speriamo che la situazione si consolidi e soprattutto che sia da treno anche per il flusso amatoriale, perché noi ci scommettiamo molto. Parliamo ora invece delle competizioni PGS, ci soffermiamo adesso ancora sul calciotto e il calcio a 5, poi parleremo comunque delle tante altre attività che fate come PGS, come il Comitato Provinciale, non solo perché sono tante, non c'è solo appunto il calciotto e il calcio a 5, però parliamo un attimino di questo, continuiamo a parlare un po' di calcio a 5 e il calcio a 5, quanti atleti, diciamo, possiamo dire così, avete, siete riusciti a coinvolgere con queste... Allora, noi, sì, nell'ambito di queste situazioni, noi praticamente facciamo un lavoro che tecnicamente è diametralmente opposto a quello che fanno appunto la fuzza dell'Audax, perché? Perché loro comunque giocano il sabato o la domenica, salvo rari casi, con disponibilità di palazzetti il venerdì sera, noi invece siamo situazioni settimanali, quindi giochiamo il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, quindi diamo uno sfogo diverso anche all'attività di base e questo è molto importante per me, perché completa proprio l'offerta di quello che è la disciplina stessa. Poi uno può discutere il fatto dell'amatoriale, può discutere il fatto di ambire a giocare in una squadra comunque, come dire, organizzata a livello regionale, molti ragazzi devono fare il conto al contrario perché bisogna anche lavorare, quindi molta gente, soprattutto sappiamo benissimo che la Sardegna rispetto ad altre zone che si libera il sabato o la domenica, i ragazzi in Sardegna molti lavorano proprio il sabato o la domenica perché comunque in periodi in cui il lavoro comunque è un pochino latita, è chiaro che molti sono stagionali piuttosto che fine settimana, insomma tante cose che devi scontrarti con tutta la realtà e il microcosmo che c'è a livello locale. E questo è un lavoro che va fatto, sembra una sciocchezza, tu organizzi un campionato, lo fai, il campionato è quello che è attorno, o le attività è quello che è attorno, ma di fatto devi badare veramente a tantissime cose, a tantissime richieste, tantissime situazioni, tantissime... insomma devi venire dietro esattamente a quello che è la... non tanto la volontà perché tutti vorrebbero giocare sempre, quanto piuttosto il tempo che uno può dedicare alla cosa e cerchi di venire gli incontri in maniera migliore possibile. È anche un po' l'obiettivo di un ente di promozione, perché io di fatto sono il presidente Nord Sardegna di un ente di promozione sportiva, quindi di fatto siamo una... molto molto in piccolo, un micro 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 comitato olimpico che si occupa di tante discipline, abbiamo più di 1500 persone che bazzicano attorno ai nostri... insomma che sono tesserati nostri, io quando ho preso quest'ente erano 70 persone, sono quasi 1500 e non tutti, ma di 1100-1200 i numeri personali mi sento... cioè sono un presidente un pochino diciamo forse troppo di campo, come si dice in questi casi. Stato giochi ogni tanto... Sì, mi arrabbio pure, non dovrei. Eh vabbè dai, ci stai in campo ogni tanto, ma soprattutto io non vorrei essere nella tua situazione quando vengo a chiederti, magari c'è una partita fissata un giorno e c'è qualcuno che viene e dice no ma non si può spostare in una da prima, anche perché immagino sia... Cioè dal punto di vista organizzativo soprattutto c'è un gran lavoro da quel punto di vista immagino insomma... Sì, poi devi scontrarti ovviamente con la disponibilità degli impianti, perché noi abbiamo scommesso sul futsal indoor, quindi ci piace giocare al coperto d'inverno, ma perché c'era anche richiesta per giocare al... Ricordiamo, i campi sono quelli dell'IPIA, giusto? IPIA, Mariotti? No, Mariotti lo usiamo come appoggio, come qualcuno che si fa qualche partita, Santa Maria della Palma, diciamo ogni tanto ci imbuchiamo al... imbuchiamo tal modo di... mi perdonare Francesco, mio amico... Salutiamolo, anzi Francesco Aderosa Al Palacorbìa Al Palacorbìa Che sappiamo che è bene... è bene... insomma è l'agenda bella fitta... fitta di... Adesso però le vari campionati stanno concludendo, quindi anche lui è un pochino più tranquillo Esatto Parliamo di un progetto invece adesso che è molto interessante e poi mi dirai insomma se già quest'anno ho avuto i risultati che tu ti aspettavi, che è quello della Junior League rivolta appunto ai più piccoli appunto come dice il nome stesso Avete voluto coinvolgere diverse squadre del territorio, non solo al Gheresi mi pare, anche dell'intera provincia, no? Come è andata? Sì, in realtà forse ne abbiamo già parlato in qualche chiacchierata informale, nei micro flash poi magari c'è modo di approfondire un pochino più computamente l'idea era quella, che non è un'idea nuovissima, ma quella di fare un campionato per bambini abbiamo individuato quattro categorie che secondo la mia esperienza, perché l'ho messo un pochino bocca io sono le categorie che potevano ottenere un pochino più di richiesta e abbiamo provato un pochino prima a partire dalle nostre relazioni interpersonali e poi ovviamente allargandoci all'ambito provinciale perché comunque non si vive di solo al Ghero chiaramente in questi casi quindi ho iniziato in maniera, come dire, non dico pessimistica però ho detto partiamo, male andando prendiamo un'altra porta in faccia come si dice in molti casi quando si fanno le cose però invece ho notato una discreta apertura soprattutto perché ormai molti presidenti sono diventati amici perché molti bazzicano col calcio a 8, molti bazzicano col calcio a 5 molti altri sono stati i miei compagni di squadra ai tempi ormai io sono classe 74, diciamo che i presidenti sono tutti tra il 70 e il 78 più o meno, quindi in qualche maniera nell'arco della vita sportiva ci si è incrociati in qualche maniera, quindi ho avuto più facilità a relazionarmi con loro e quindi abbiamo detto puntiamo a 5-6 società per iniziare invece siamo arrivati in maniera inaspettata a 12 società 12 società che hanno prodotto nel complesso tra apertura e clausura perché noi abbiamo la formula pseudo-argentina un po' in tutte le discipline 24 squadre, il che per me è un grande successo E al Ghero quante sono state? Al Ghero c'è stata la prima, crederci, la Nettuno anche perché sono un carissimo amico del presidente Alessandro Marella e tutto comunque l'indotto, tutta la diligenza ovviamente che ha dato il benestare Laudax Algherese che ha messo squadra in tutte le categorie Treseliges, mi sfugge una Algherese, vabbè mi vero in mente lo dirò Poi le altre sono comunque società storiche del territorio Sì parliamo della Bonorva, parliamo degli punti Don Bosco di Sassari che è comunque la nostra referenza diretta su Sassari perché comunque il presidente Torre Vinci è stato dirigente con me per il PGS per i primi anni è stato tra l'altro anche consigliere regionale dell'ente di promozione quindi anche lui si è mosso parecchio sulla zona sassarese Siamo arrivati comunque fino a Bonorva, a Cossoline Sì tra l'altro Abbiamo parlato di diverse società sportive, di diverse società calcistiche Faccio una domandina insomma che un po' esce fuori dai binari nel senso più o meno poi in realtà che riguarda proprio lo stato di salute del calcio algherese come lo vedi tu a livello di prima squadra ovviamente purtroppo noi abbiamo di fatto solo l'Audax che insomma milita in seconda categoria C'è stato il Treseliges anche se in realtà è una società di Sassari però la consideriamo, ormai la consideriamo diciamo algherese anche perché ci sono tanti ragazzi di Alghero Si dice di Alghero della bonifica Esatto, sono stati ragazzi di Alghero c'è l'annatore algherese Angelo Bardini che salutiamo anche lui però dispiace un po' vedere il calcio algherese in crisi ormai possiamo dire da diversi anni anche tra l'altro perché insomma tra l'altro l'anno scorso è sparita un'altra società che è il Maristella, ricordiamo la scomparsa del Fertilia l'Alghero che è il 1945 Alghero in terza categoria secondo te da uomo che segue lo sport insomma che lo vivi ogni giorno possiamo dire cosa bisogna fare ad Alghero per risollevare un po' il calcio? Allora intanto ci sfuggiva nei dialoghi delle squadre recenti di seconda e prima categoria anche il fatto che a Sassegata c'erano due squadre che si sono alternate l'Oretella famoso storico l'altro che poi diventò atletico Alghero anche lì alla fine c'era uno io ho vissuto tanti anni in quella borgata non fisicamente ma avevo il campo in gestione di calcio a 5 i tornei prima erano lì sì praticamente eravamo il fulcro del calcio algherese praticamente il nostro campetto nonostante fosse ai confini di Alghero stesso era molto frequentato parlo di 15 anni fa quando con il mio amico Antonello avevamo rilevato l'impianto però lì c'era veramente un fermento un fermento anche di dirigenti appassionati e disinteressati passatemi il termine per che spingevano sulla squadra mettevano soldi, mettevano forze probabilmente sono mancate un po' le forze più che i soldi perché comunque il livello della discussione sul calcio organizzato verte sempre su due livelli la voglia e la possibilità economica perché una purtroppo non prescindere dall'altra non si può fare una senza l'altra è brutto dirlo però purtroppo io ho studiato un pochino tutti i parametri del CONI perché comunque adesso anche gli enti di promozione stanno tendendo a diventare super ufficializzanti nella disciplina sportiva mi sto accorgendo che veramente è complicato è complicato comunque seguire tutta la prassi burocratica il tempo che a volte uno dedica per fare chiamalo così volontariato che poi non è volontariato ma è passione che uno attraversa la volontariato perché in realtà ci butta soldi perché a questi livelli qua uno può dire quello che vuole ma il tempo costa più è inversamente proporzionale i soldi che spendi all'interno di una situazione che vai a pianificare è veramente complicata la macchina burocratica probabilmente quindi in primis per fare ordine alla conversazione in primis è probabilmente mancato lo stimolo di alcuni dirigenti storici perché comunque molti ci cullavamo molti di noi almeno della mia generazione ma forse anche la tua ci cullavamo su dei dirigenti che sono sempre stati sono sempre stati e quando poi su dieci ne mancano sei cinque per motivi loro non parlo di mancanze fisiche purtroppo qualcuno ha anche però è quella anche la causa naturale quello lo senti perché comunque il ricambio è difficoltoso far capire alle persone adesso quello che loro facevano quelle amabili simbola piuttosto che tante persone che c'erano negli anni 70-80 che hanno detto su delle grandi realtà ne cito uno esatto il caso della Palma che arrivo a essere quasi un miracolo locale è veramente complicato perché devi scontrarti con gli spazi sempre ristretti col tempo che diminuisce i soldi di conseguenza sono diventati molto più pesanti rispetto a una volta ma speriamo comunque che diciamo che io tecnicamente sono rimasto un po' furio dalla conversazione perché poi ci fu una bagarre tempo fa quando si vede che il Mariotti era in condizioni pietose io tuttora purtroppo lo vedo perché lo vedo tutti i giorni perché come ente abbiamo in concessione la palestra a fianco adiacente è lo specchio possiamo dire purtroppo è una cosa brutta da dire però è lo specchio della situazione possiamo dire del calcio sì ogni tanto addirittura da pseudo che poi non risolvi nulla ma ogni tanto vado a buttare fuori tiro via un po' di erbaccia perché mi dispiace ti dà fastidio agli occhi fuori dalla gente che guarda perché ogni tanto mi chiedono ma posso fotografare io chiudo la porta per decolare insomma perché no intanto non è casa mia e secondo perché non è neanche corretto che la gente vada a fare troppa speculazione su queste cose c'è da dire che comunque l'Algero ci ha provato quest'anno con la terza categoria se non altro almeno ha fatto un tentativo secondo me un po' disperato per tentare di tenere a galla un nome che comunque è un Brasone e comunque ti dico la verità per quel poco che frequentavo e vedevo c'era qualcuno appassionato che andava veramente a vederlo quindi secondo me la scintilla come dire la fiammella sotto la cenere c'è cioè ora si tratta secondo me chirurgicamente da diciamo pseudo manager di sport secondo me di rivitalizzare due impianti base che sono appunto il Mariotti e Fertilia perché comunque Fertilia deve essere il fulcro e si deve concentrare l'attività delle Borgate anche perché la squadra di Borgate è complicata a gestirla Maristella credo insomma non passano un po' mi hanno detto che probabilmente stanno facendo dei lavori al campo un po' in ritardo perché insomma la dirigenza l'allora dirigenza del Maristella gli chiese a suo tempo insomma poi sappiamoci fu una sorta di querelle tra la dirigenza insomma del Maristella e l'amministrazione proprio per il fatto che poi ripeto senza entrare troppo nei meriti o nei demeriti dell'amministrazione probabilmente quello che manca veramente anche perché comunque un assessore non si può occupare di tutto cioè ad Aguero purtroppo avremo la presunzione che ogni ramo singolo cioè se noi citiamo cento rami di qualunque cosa ci vorrebbe cioè la gente vorebbe cento assessori differenti non si può fare così purtroppo però una commissione sport che funzioni in maniera un pochino al di là dell'assessorato che si deve occupare giustamente di 5 o 6 situazioni accorpate però una commissione sport che chirurgicamente vada sul campo e focalizzi i problemi e riporta l'attenzione dei tavoli tecnici secondo me sarebbe veramente un passo da fare io dico la mia che accorpare probabilmente i servizi sociali e sport non è stata probabilmente la cosa più si poi ripeto si può entrare nel senza alcuna vena polemica però diciamo che secondo me entrambi due settori molto delicati insomma certo servirebbe ovvio che servirebbe un assessore solo allo sport però come hai detto tu è davvero difficile ripeto servirebbe un assessore per tutto 20 assessori servirebbero anche di più se andiamo a citare i casi proprio singoli ci vorrebbero 40 assessori probabilmente è giusto accorpare è giusto invece che le commissioni funzionino a dovere esatto va bene allora se la regia è d'accordo adesso ci fermiamo giusto per qualche istante ci vediamo tra poco grazie a tutti 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 eccoci eccoci allora eccoci nuovamente in diretta noi stiamo parlando di calciacinque perché esatto io purtroppo cioè purtroppo per fortuna diciamo ti sei appassionato bene mi sono appassionato dai sono diventato dirigente di una società e quindi adesso non citiamo la troppo che poi dicono ma guarda conflitto di interessi di un'associazione di un'associazione che si parla di società in Italia esatto comunque speriamo bene adesso sabato anzi sabato ci sarà un'altra partita quindi speriamo possa andare bene comunque ha fatto piacere vedere insomma tutto questo entusiasmo anche sabato che c'era sabato quello passato avanti ieri c'era davvero un grande entusiasmo al Palacorbia io mi ricordo ero ancora più giovane quando c'era l'Alghe Calcio a 5 però un po' mi sono venuti tra virgolette i brividi nel rivedere tutto questo tifo questo calore nei confronti di una squadra ma anche devo dire anche quando sono andato a vedere le partite dell'Audax ho visto che comunque c'era grande interesse grande entusiasmo insomma possiamo dire non per renderci meriti noi e l'Audax però abbiamo un po' coperto un po' il buco che c'è stato col calcio di cui parlavamo parlavamo prima assolutamente sì in realtà tra l'altro molti ragazzi molti ragazzi tra l'altro che prima militavano in squadre in squadre di calcio squadre calcistiche algheresi sono venuti proprio a giocare hanno deciso di e non è facile perché è tutta un'altra cosa insomma lo sai qualcuno l'avrei visto anche tu si è tirato indietro perché ha detto non è cosa mia però di fatto è chiaro che essendoci meno alternative uno prova anche un po' a scommettere sulle sue capacità per adattarsi a una nuova disciplina tornando un attimino al discorso delle due squadre che avete rivitalizzato un pochino il calcio a 5 il futsal come lo chiamiamo a differenza da calcio a 5 e futsal è che il futsal si gioca deriva da calcio da sale sarebbe al chiuso al coperto mentre il calcio a 5 è classico è quello sull'erbetta sintetica che si fa calcetto molti dicono calcetto insomma in gergo calcetto giusto per far chiedere il calcio a 5 è il calcetto una cosa il futsal è un'altra cosa è quella che si gioca nelle superfici chiamiamole cose dure esatto comunque è carina anche l'idea della microtorsida che si crea durante le partite perché come dico io se giochi in casa devi farti sentire che sei in casa giusto anche perché giù nella zona di Cagliari sono ancora più pubblico per non parlare per non parlare di altri ambienti insomma io mi ricordo anche quando l'alghè calcio a 5 ha militato in serie B è andato in trasferte dove insomma il clima era tutt'altro che amichevole insomma da parte sugli spalti soprattutto possiamo dire poi ripeto prima non c'era quando c'era i tempi di Bitti e loro non c'era facebook non c'erano le dirette non c'era tutto quindi diciamo nelle segrete stanze di una palestra si consumavano non dico le violenze per carità però veramente era dura andare in trasferte parliamo ecco lasciamo adesso un attimino il calcio a 5 il futsal insomma il pallone che si insomma si prende coi piedi terra a terra perché il PGS ovviamente non è solo questo abbiamo parlato di questi aspetti però come ente vi state muovendo su più fronti se non sbaglio anche karate danza non so adesso poi mi direi tu farei un quadro diciamo generale delle varie attività che svolgete durante l'anno sì praticamente la nostra attività fondamentale vabbè ripeto io ho ereditato il ramo calcio perché mi sono trovato dentro però di fatto siamo l'unico ente che gestisce tre campionati differenti perché di fatto anche attorno al pallone le gare calcio a 5 calcio a 8 calcio a 11 chiamalo così dei bambini anche se i bambini in realtà il loro sbocco è il calcio a 11 però di fatto giocano in campi molto più ridotti però di fatto è stato veramente un grande vanto e portarlo a compimento per me ha chiuso un cerchio anche perché per chiudere ancora più il cerchio noi il calciotto lo facciamo anche a livello over 40 d'estate quindi abbiamo veramente come dire chiuso il cerchio attorno alla disciplina ovviamente chiuso un cerchio c'è chi ne ha più un altro perché altrimenti ti mancano gli stimoli e tutto il resto abbiamo scommesso quest'anno anzi l'anno scorso già sulle arti marziali abbiamo iniziato con il karate grazie soprattutto al maestro Pippo Meli che è un eccellente l'escellenza sarda di questa disciplina che medaglia d'oro all'eccellenza del CONI il cinturale del settimo dan che ci ha portato praticamente a sviluppare questa disciplina e in 18 mesi abbiamo fatto già 10 gare individuali con più di 400 bambini iscritti con un afflusso di persone che è veramente insospettabile perché poi è vero pure che ogni bambino come dico io si porta dietro tre persone però portarsi dietro tre tifosi perché a differenza del calcio dove il babbo fa il tifoso in questo caso il nonno la mamma e il babbo fanno fanno da tifo ed è molto 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 bello perché tra l'altro rispetto delle regole tu se non sbaglio hai praticato un arte marziale forse non l'interno si giuro giuro mi ricordo qualche cosa c'è anche i segni è veramente stimolante una cosa che a me francamente vedere il bello mi piace più del gesto stesso quindi il bello di una disciplina è vedere il coinvolgimento delle persone se si attorno a una disciplina poi comunque facciamo le attività anche più disparate parliamo del soft air l'alghero soft air facciamo vari circuiti di danza anche a livello nazionale è chiaro che non abbiamo ancora affondato bene nella pallacanestro perché in realtà mi manca al momento tutto non si può fare quello che dico io anche a mia moglie o a mia madre ancora non mi pagano per stare buttato in una palestra probabilmente non mi pagheranno mai perché alla fine possiamo dire lo fai non dico assolutamente con volontà perché ti piace c'è la passione purtroppo è quasi una vocazione perché la passione è arrivata dopo la vocazione perché se non sei come dire se non hai un pochino nel DNA il fatto di voler stare in mezzo alla gente non non vai avanti poi con la passione quando io dicevo prima che ho 1100 1150 contatti sul telefono di persone sono nel lavoro tutte le cose sono contatti a parte ho creato purtroppo un sistema malato di contatti diretti il che è come dire una prigione senza uscita spesso cioè sul telefono i telefoni nuovi a me durano 4 ore le batterie il che quando sento persone che dicono a me la batteria dura 4 giorni io li invidio perché in realtà i canali comunicativi tipo quando c'è uno spostamento gara c'è un modo da compilare mandare via mail 48 ore prima invece no ormai Whatsapp ha ammazzato tutti questi sistemi tecnici e a volte mi si gridano per questo perché comunque dovresti applicare le regole per fare soprattutto quando il volume del lavoro cresce quello che ho detto prima quando eravamo 60 persone e ci guardavamo in 4 gatti con 4 società ero un conto adesso che siamo a 1500 e abbiamo 30 società più o meno nel giro tutto questo in 4-5 anni e per fortuna a farve la febbrea mi scade il mandato quindi ho smesso come dire hai già deciso di ho già deciso hai già deciso di mi dedicherò ad altro sempre in ambito sportivo in un'altra società quindi però ho già deciso che passi il testimone troppo stress almeno per adesso troppo stress mi piacerebbe scommettere sullo sviluppo di una realtà locale vediamo un pochino se tutte le cose andano come devono andare ormai addirittura qualcuno pensa che sia bravo a fare il manager di queste cose quindi mi stanno addirittura cercando ecco ecco addirittura siamo arrivati a questo livello di follia no vabbè dai senti un'altra cosa ecco l'importanza io volevo sottolineare proprio l'importanza di un ente come il vostro che è quello di avvicinare comunque i giovani all'e-sport allo sport in generale cosa che non è facile probabilmente di questi tempi perché ormai purtroppo dobbiamo dire anche noi anche noi adulti siamo schiavi di questo siamo schiavi degli smartphone siamo schiavi della tecnologia non è facile di questi tempi avvicinare i giovani tanti giovani allo sport allora intanto non perché vada a fare il paragone rispetto a qualche anno fa però di fatto ho gestito ho seguito tre quattro generazioni adesso i bambini rispetto a prima sono veramente molto più impegnati adesso hanno una scadenza uno scadenzario settimanale che fa impressione che si va dall'archatechismo alla doppia disciplina alla scuola di musica perché però non c'è solo sport ovviamente c'è tante situazioni il rientro serale a scuola il dopo poi la serata musica perché fanno musica insomma è veramente veramente complicato fidelizzare i bambini su un'attività sportiva il mio cruccio è non come dire è non avere ancora scommesso sulle fasce di inserimento sportivo e sociale e quello un pochino mi dispiace ma non perché non lo sappia fare perché sono sicuro che se mi metto anima e corpo riesco a farlo però la scommessa dello sport di base cioè di dare lo sport a tutti ancora non si riuscita a attuarlo ma per il semplice fatto che il tempo è veramente poco le teste sono poche le persone che ti seguono sono poche quando ti guardano ti guardano sempre in maniera un po' stranita devo dire che spesso la mia capacità di convincimento va riesce ad andare allo step successivo quindi è una forma sperimentale però veramente il mio rammarico è quello di non avere ancora scommesso appieno sullo sport delle fasce deboli e quello un pochino mi dispiace abbiamo un progetto molto forte e importante ad esempio con l'autismo a Sassari in cui nei nostri campionati di bambini giocano tanti ragazzi affetti da insomma da formi di autismo che sono stati inseriti proprio in deroga mia personale perché sono andato un po' in forzatura di regolamento all'interno delle società delle squadre e quindi giocano a tutti gli effetti con i ragazzi un pochino più grandi perché ovviamente seguiti da psicologi e tutte le situazioni a seguire ho parlato poi ovviamente sono stato a stato contatto con l'amministrazione di Portatore Sassari per queste formazioni di bando ecco probabilmente il crucio è ancora che molti ragazzi mi dispiace a volte pensarlo anche ce l'abbiamo ancora un pochino troppo chiuso in casa quando invece si potrebbe veramente fare tanto colpa anche nostra che non comunichiamo bene quello che c'è oltre l'aspetto sociale non più che sociale come dire il fatto che tu il bambino quando ha qualche soggetto psicologicamente un pochino particolare lo porti soltanto a fare un'attività come dire di passeggiate un conto però adesso se noi guardiamo veramente quello che c'è nel mondo c'è veramente di tutto tanto è vero che il comitato parolimpico italiano adesso è il primo e il secondo forse a livello mondiale quindi immaginiamo un pochino dove siamo arrivati purtroppo scarseggiano come sempre un po' i soldi perché il denaro in queste cose fa sempre la differenza e il tempo poi è figlio del denaro c'è poco da fare sono parenti stretti però insomma su questi su questi aspetti insomma è sicuramente il caso di riflettere hai parlato proprio di questo di questo progetto che c'è a Sassari c'è qualcos'altro in cantiere nelle PGS ovviamente lo sto tentando di esportare tutta Italia quindi abbiamo il nostro referente nazionale che si chiama Ruggero Russo che tra l'altro è un luminare della disciplina perché intanto è laureato in scienze motorie poi ha a che fare con i disabili tutti i giorni con cui siamo buttando giù dei progetti anche di Simpli Soccer quindi il calcio proprio per i non vedenti e quindi farlo diventare proprio una disciplina normale normale è brutto dirlo e a volte è normale però nel senso normalizzare la situazione chiamiamola così forse la situazione è più corretta normalizzare la situazione è la cosa migliore è chiaro che servono soldi non per andare a bussare perché gli sponsor e poi tutti li conosciamo alla fine ad Alghero siamo in 50 che mettiamo soldi tra virgolette quindi non è che uno può andare a inventarsi cosa però voglio liberarmi non dico dell'ente a febbraio anche per il semplice fatto che devo cercare qualche fondo per stanziarlo su queste fasce su questo inserimento sportivo a me perché non piace tanto fare sport anche se adesso mi sto un pochino avvicinando anche la mia colpa perché mi hanno convinto a farlo allo sport scolastico perché a me a me il bambino piace formare cioè piace dargli un indirizzo trovare la come dire la pappa pronta già nelle scuole non mi piace non mi piace perché mi dà l'impressione di speculare su qualcosa che già esiste io voglio una scommessa un pochino più evidente un pochino più di qualità fermo restando che comunque anche lì stiamo provando a come dire a inserire delle discipline particolari ma che diamo uno sbocco reale al bambino una cosa diversa una formazione diversa che vada oltre la giornata sportiva è ludica altre cose in cantiere hai detto che febbraio lo giusto scade il tuo mandato c'è qualche qualche altro posso dire sogno nel cassetto mettiamola così ecco da presidente del 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 pgs qualcosa che vorresti realizzare prima della della conclusione della scadenza più che quello oltre a quello che hai detto che è sicuramente un progetto molto interessante sì intanto ripeto il prossimo anno lavorerò su quello perché poi alla fine in realtà la scadenza naturale è febbraio ma me la porterò avanti fino a marzo aprile perché comunque porterò come dire quando poi ti capita è anche un po' la situazione un po' cervellotica il CONI ha imposto le votazioni a febbraio perché tutti i quadri anni olimpico tra virgolette si chiamano le situazioni quindi a febbraio dell'anno olimpico vanno risolti tutti questi consigli e comunque fate le votazioni però di fatto a febbraio ovviamente ti trovi a pieno treno in corsa come ti dici quindi non è che siamo a marzo cioè a marzo aprile che programmi la stagione successiva a febbraio devi portare avanti in metà di stagione certamente quindi consoliderò quello sicuramente la mia scommessa è ripeto portare portare dentro casa ancora un paio di progettini soprattutto di inclusione sociale sicuramente sì ma soprattutto è dare un futuro cioè la mia paura più grande è che si disperda quello che la goccia che abbiamo fatto che di fatto abbiamo fatto una goccia non è che abbiamo fatto chissà che cosa parliamo di un ambito dove abbiamo 38 insomma 38-40 mila insomma con noi bazzicano alla fine 35-38 società nelle varie discipline tra squadre insomma tutto quello che attorno quindi di fatto ripeto mi dispiacerebbe disperdere disperdere quello che è stato fatto quindi il mio lavoro principale sarà sicuramente quello di consolidare il lavoro e seguire comunque il nuovo presidente che arriverà in una forma sicuramente di affiancamento molto forte perché sarò il primo poi a dargli il ben servito se non dovesse andare bene in maniera anche un po' despota non si può fare ecco si inventiamo il modo di fare ma senti su questo tema insomma dell'inclusione sociale secondo te inclusione sociale è sport quindi secondo te si sta facendo abbastanza dal ghero oppure bisogna fare ancora bisogna lavorarci ancora molto ci sono associazioni benemerite che fanno il loro lavoro ma portarlo a livello successivo è un'altra cosa perché praticamente è chiaro che la devi lavorare con le amministrazioni comunali c'è poco da fare perché portare ad esempio qua avevamo il Simpli Soccer è stato l'ISI Volley tante situazioni veramente con i cognitivi che sono il cognitivo non è come dire quello che ha una menomazione o un arto piuttosto che altro è molto molto complicato lavorarci ha bisogno di una sensibilità in primis che va oltre la competenza medica e scientifica stessa quindi è veramente complicato fare determinate situazioni e questi ragazzi qua che si occupano poi perché abbiamo veramente tanti ragazzi molto bravi che sono super formati ma non hanno sbocchi in nessuna situazione ecco il mio sogno è se proprio vogliamo parlare di un sogno tu mi hai parlato poco fa mi hai venuto il treno in corsa è mettere a correre 20-25 ragazzi che scommettano su un progetto di formazione per il prossimo quadriennio perché il prossimo quadriennio sarà quello fondamentale parlando sempre in orbita olimpica quello che arriva fino al 2024 per l'inclusione reale non di questi ragazzi nello sport ma ma dello sport per come dire chiamoli così per il comitato parolimpico molto locale ma riportarlo all'interno del CIO quindi all'interno del CONI quindi sarà equiparato dal 2024 in poi perché è chiaro che l'imbuto porterà lì e la scommessa è dare gambe e piedi a questi ragazzi che hanno che hanno veramente delle specifiche a volte sono un pochino scoraggiati perché qua poi alla fine ti guardi attorno e dici Alguero è questa dove vado faccio sì puoi andare a Sassari ma di fatto come dire il soldo che gira non è insomma non stiamo parlando di calcio ad altri livelli ma stiamo parlando di piccole palestre che abbiazzicano con 15 persone insomma la gente bisogna che cambi senti adesso abbiamo parlato abbiamo fatto questa lunga chiacchierata insomma sul mondo sul mondo PGS visto che appunto ricordiamo è vero molto abbraccio ma è bello a me facciamo così siamo arrivati alle conclusioni senza senza nessun canovaccio che adesso parliamo di altri aspetti non ti lascio andare via perché poi c'è Dolores che secondo me Dolores una domandina almeno almeno una domandina conoscendola te la farà Dolores è terribile vero è terribile se ti sente adesso viene adesso viene Timena in diretta perché ricordiamo siamo in diretta con il nostro nostro programma anzi visto che ci siamo invitiamo i nostri telespettatori ascoltatori se volessero inviarci domande ovviamente possono farlo anche scrivendo una semplice mail a redazione punto catalan tv chiocelagmail.com oppure un messaggio nella nostra pagina facebook catalan tv abbiamo parlato adesso di francesco pepe come rappresentante presidente del del pgs nel nord nel nord sardegna però ovviamente nella tu nella vita è un lavoro meno male di questi tempi quello che dicevo prima è che nessuno mi paga per stare in palestra te l'hai fatto quello e ti dico la verità perché comunque devi anche andare dietro le passioni però poi ti devi cozzare con altre cose le passioni non dico che muoiono ma cerchi di tenerli in maniera furbesca sono le doppie come il famoso piedi in due scarpe diciamo così ecco senti sei ovviamente un imprenditore un piccolo imprenditore insomma nel centro storico esatto un imprenditore commerciale e sei tra i rappresentanti del centro commerciale naturale del centro storico è una bella realtà possiamo dire perché adesso mi dai tu quanti quanti siete insomma siete tantissimi ovviamente nel centro nel centro storico e quindi si è impegnato in prima linea anche su quello anche per cercare di tra virgolette di frenare un po' insomma una deriva possiamo dirla così chiamarla così senza ovviamente offendere nessuno senza sminuire gli altri però della grande distribuzione insomma dei centri commerciali non è facile di questi tempi ecco qua andiamo un altro passiamo cambiamo completamente argomento però sì sono il vicepresidente del centro commerciale naturale di Alger centro storico tra l'altro sono io ho vissuto tutta la fase di trasformazione perché è stata fondata 12 anni fa addirittura 10-11 anni fa comunque questo è il mio quarto mandato da vicepresidente sono sempre stato i presidenti ma io sono sempre stato il vicepresidente fu fondato da Emiliano Piras credo 10-11 anni fa adesso francamente non ricordo più quanto però col suo doppio mandato poi c'è stato il mandato di Domenico Panfili poi adesso c'è Carlo Scarpa però di fatto sono sempre rimasto io come vicepresidente quindi più o meno al di là del ruolo e della carica anche lì ho notato una sorta di trasformazione del tessuto sociale e economico e soprattutto commerciale del centro storico in generale la nostra scommessa è chiaramente quella di lavorare sulla qualità a tutti i costi tutti i costi che a volte si fa fatica a recepire soprattutto tra i tuoi tessuti tra i tuoi parti se mi viene la parte sportiva in questo caso diventano associati mi tocca mischiare e oggi si tocca oggi sei in doppia veste in doppia veste e quindi è complicato far capire quello che si ha e quello che si ha io un po' mi sono occupato di comunicazione all'interno di questo centro commissione naturale anche perché ripeto lo step 2.0 come lo chiamo io quello della comunicazione piena alla fine è nato veramente con l'ultimo mandato quello di Mimmo con il mio caro amico Domenico al quale segretario dall'altro del CCN è complicato perché comunque basta farsi un giro nel centro storico per vedere che comunque la qualità che c'è adesso non c'era dieci anni fa non è più quella di 12-15 anni fa questo per tanti motivi anche lì è cambiato l'afflusso economico è cambiata la proposta è cambiato il fatto della come dire del fatto che la scommessa del centro storico prima era soprattutto una qualità a tutti i costi adesso con la liberalizzazione anche della Bersani che è ormai tanti anni fa non ricordo più oltre dieci anni ormai credo anche il tempo è tiranno siamo diventati vecchi nel frattempo però di fatti è chiaro che alla fine ha dato un'opportunità a tutto adesso al centro storico si sono credo aggiornate a dicembre 515-520 partite IVA che sono un'enormità perché adesso hanno preso e questo è stato molto importante hanno preso in vitalità molte strade secondarie che poi non sono secondarie ma sono strade bellissime però sono attività che adesso insistono un pochino in tutte le strade al di là del quadrilatero della moda come lo chiamo io scherzosamente che sta via via Callalberto via Gilbert Ferretta via Simon e via Roma scende io lo chiamo un po' il quadrilatero della moda scimmiottando un pochino Milano però di fatto è quello alla fine e questo è stato molto importante molto importante perché comunque c'è molta qualità anche nelle strade limitrofe quindi nelle strade adiacenti questo quadrilatero la mia scommessa il mio cruccio è veramente quella della creazione di un circuito di qualità a tutti i costi a tutti gli effetti abbiamo quest'anno abbiamo addirittura saremo in stampa con 50.000 welcome card che sono le card di benvenuto che vengono distribuite agli alberghi siamo molto avanti siamo molto avanti perché poi comunque anche gli altri CCN stessi ce ne sono altri tre ad Alghero altri quattro che attivamente funzionano ovviamente sono gli step iniziali perché comunque la ripartizione di Alghero per legge regionale è dovuta avvenire su ripartizioni commerciali abbastanza predefinite quindi quasi per quartiere non geograficamente limitati ma comunque per aree molto estese ad esempio la pietraia fa un CCN se è ancora chiaramente è agli inizi quindi devi far capire un po' il proprio progetto però la scommessa della qualità è veramente importante quando tu mi parlavi prima del connubio con il centro commerciale classico quello fisico tra virgolette è chiaro che è anche stata una forzatura il nome stesso il centro commerciale natural a me non è che faccia impazzire la dicitura generale che ha dato la legione si poteva si poteva probabilmente studiare qualche situazione un po' diversa però non si può competere ovviamente con la grande distribuzione né con i servizi che dà la grande distribuzione questo è normale però le associazioni di commercianti sono veramente forti anche perché negli ultimi anni è nata anche quella del Corallo che comunque sta scommettendo assieme all'amministrazione comunale lo sviluppo economico sulla tutela stessa del prodotto che comunque è un'eccellenza per Alghero non è facile però di questi tempi come si può competere si può competere magari anche visto che tu ti occupi di comunicazione insomma con i social network quanto sono importanti a tal proposito per una realtà come la vostra guarda possono aiutare sì francamente gli ultimi due anni ho scoperto delle potenzialità quasi inimmaginabili perché io francamente non avevo proprio il polso di quello che poteva essere la risposta delle persone verso anche una pagina Facebook piuttosto che un profilo Instagram e tutte queste situazioni qua ho notato che invece la qualità paga paga e viene rafforzata proprio dalla risposta stessa se non altro anche solo in forma di riconoscimento cioè adesso ci prendono veramente come un riferimento di qualità e tanto anche un po' torievole istituzionalizzato il che non vuol dire attenzione nulla con i rientri di tipo economico perché comunque è vero che ti vedono come un'eccellenza un po' come il piccolo artigiano che dice caspita quello fa delle scarpe bellissime però su internet te le trovo a 30 euro per dire la andiamo sempre a cozzare sul doppio canale poi dalla disponibilità stessa di quello che uno va a comprare però è veramente un processo molto lungo adesso la scommessa è crearsi veramente un circuito di qualità che vada anche sulla ristorazione adesso noi stiamo ad esempio stiamo facendo fuori ristoranti dal nostro circuito comunque non accettiamo ristoranti che non abbiano un prodotto certificato anche non dico praticamente fresco quello che è perché poi ci può stare che in alcuni periodi si usi il congelato ma deve essere tutto certificato in determinate tabelle vai a farlo capire a persone che magari pagano 4-5 mila euro d'affitto tra virgolette chiamoli così buchi sono bellissimi locali per carità però devi far campare 4-5 stipendi 40 mila euro d'affitto tasse adesso non voglio fare la persona di quelle però di fatto devi combattere su queste cose qua alla fine tutti i tuoi discorsi a volte cozzano sulle spese che uno ha della vita reale è un po' come chi compra ripeto perché cerca comunque la soluzione più economica su internet tra virgolette e di fatto chiaramente non ha i costi di un negozio fisico chiaro ovviamente e quindi sembra banale però scommettere sul sorriso sull'offerta sulla qualità sul fatto di essere pronti anche in determinati orari sul fatto anche da stupidi di dare luce a una città di domenica a gennaio sembrano sciocchezze no vabbè è vero perché io molti vedo poi vedo molte persone che è puntuale su facebook in determinate ore guardano il pezzo lì e fanno la foto al ghero di alle 23 vabbè l'inverno è normale ragazzi cioè chi è che è sospito chiunque che esca da al ghero io ho abitato per 30 mi sono sposato 10 anni fa comunque fino a che mi sono sposato sono 45 35 anni al centro storico in realtà proprio in piazza civica ho abitato per 35 anni ho lavorato in piazza civica quindi infatti io ero un tutto uno braccio corpo e lavoro sul piazza civica o comunque sul centro storico in generale ti posso garantire che io ho vissuto epoche d'oro insomma epoche commerciali d'oro per carità quello sicuramente sì però il momento in cui tu fai la foto che torniamo al discorso che i social hanno rovinato molta gente comunque l'uso improprio troppo stroppo come si dice l'uso improprio di determinate situazioni mi fa vedere che la parte terminale del classico alle 21 non c'è nessuno e prendiamocela con non voglio citare il sindaco col sindaco ce l'abbiamo con chi ma cosa si sta facendo non va bene non va bene ecco io addirittura bannerei proprio non lo so all'inverno è normale io capirei fosse il 10 di agosto capitava anche 30 anni fa capitava anche 25 anni fa e ricapiterà purtroppo anche fra 20 anni è bello ragazzi l'unica certezza è che non morirà mai il comparto come c'è il centro storico perché ci sono previsioni pessimistiche di studi anche fatte al nostro interno tanto di persone abbastanza autorevoli che un po' mi spaventano quindi quando a me la cosa mi spaventa troppo ecco a volte la a volte la prendo come una sciocchezza siamo un po' ignorantelli su questo io per primo devo stramatizzare purtroppo i social network danno la parola a tutti anche io ne so qualcosa io scusate ogni tanto guardo il telefono non per poco rispetto di Francesco ovviamente però purtroppo siamo anche in un presidio di politica siamo in un momento un po' non sei candidato la cosa divertente ieri abbiamo fatto la premiazione quanti amici però c'è candidato sono una marea adesso tutti che ti stanno cercando tutti che guarda a caso mi sono venduto in zacco di persone nelle premiazioni nessuno che sentiva con l'altra che al quarto al quarta premiazione ho dovuto dirlo ma mi chiedi il voto alla quarta giro ho detto facciamo un attivino così perché a scanzo di equivoce non sono candidato io sto vedendo veramente io ti giuro io sto vedendo in questi giorni persone che non vedevo da credo da anni quasi da cinque anni guarda a caso comunque vedi questo è il fatto che da quello ci esce poco vedi ecco ecco perché sedia ecco visto che abbiamo toccato un po' questo tasso della politica come ci si confronta ecco come ci si confronta con l'amministrazione dal punto di vista sempre rimaniamo nel commerciale parlando esatto del centro commerciale naturale del centro storico come ci si confronta con l'amministrazione? guarda io personalmente mi confronto con l'amministrazione sia per le questioni sportive che per le questioni ovviamente commerciali devo dire che rimanendo nell'ambito commerciale sia con Fondazione Alghero che o Meta come si chiama comunque in questo caso ha cambiato che con l'assessorato prima di Natascia Lampis e poi è diventato di Ornella Piras ma anche con Gabriele Esposito per quello che riguarda il turismo ma anche col sindaco stesso insomma io personalmente abbiamo un presidente che a soia dei 70 anni si può ampiamente permettere di andare a tutti i tavoli che vuole però di fatto non siamo mai stati anzi ci siamo mai stati una granissima collaborazione anche negli allestimenti stessi del centro e quello devo dire che al di là del trasversalismo che c'è stato in politica anche perché ripeto io personalmente sono da 12 anni quindi è chiaro che ho visto il doppio il doppio passaggio alla fine però di fatto ti dico la verità è sempre stato un dialogo costruttivo tutto sommato è improntato alla massima collaborazione è chiaro che ci sono dei no in cui tu devi valutare il tipo di no e ci sono dei sì che devi valutare il tipo di sì perché a volte il sì per forzato piuttosto che il no deciso hanno un limite veramente molto molto sottile però di fatto ti devo dire siccome si è abituati a proporre situazioni e cose tutto sommato realistiche è chirurgicamente valide per quello che è il tessuto sociale del centro storico stesso ma anche commerciale perché poi di fatto parliamo di un centro commerciale naturale che traina la città è inutile che ci nascondiamo lì dietro alla come dire a un dito e quindi è chiaro che uno deve badare un pochino alla pulizia e al decoro perché? perché comunque chi viene a farsi ancora passeggiata io vedo Alguero non voglio ma si ferma uno ad Alguero andiamo al centro storico perché alla fine funziona così la cesta è la vista più strutturata che può comunque coinvolgere altre realtà però di fatto purtroppo devi avere un occhio di riguardo per quello che è l'attenzione sulla chiamalo questo sul biglietto della vista si può dire magari sì perché comunque per Alguero è quello nella vita proceda quando sbarcano entrano lì beh sì effettivamente ripeto la passeggiata saltuaria se non si fa un giro passa la via Callalberto è difficile che magari magari può passare anche da via 20 settembre o da via Giovanni e di treno sto sparando però di fatto uno dieci su dieci passano da lì è vero si via Callalberto via Roma insomma va bene allora adesso ci lasciamo per un altro piccolo break musicale possiamo chiamarlo così tra poco verrà la collega Dolores per le anticipazioni del telegiornale per l'ultima tranche di Radio Catalan per l'ultima tranche di Radio Catalan di Radio Catalan per l'ultima tranche di Radio Catalan per l'ultima tranche per l'ultima tranche per l'ultima tranche di Radio Catalan per l'ultima tranche per l'ultima tranche di Radio Catalan di Radio Catalan per l'ultima tranche per l'ultima tranche di Radio Catalan eccoci nuovamente nuovamente in studio nuovamente in diretta con Radio Catalan ci ha raggiunto la collega Dolores buon dia buon dia così Michele è contento salutiamo Michele Michele ciao Michele anche se non ci vede ci vedrà su Youtube ma puoi guarderà Youtube semmai controlla perché vediamo si ci controlla vero ebbè se il suo insomma il padrone di casa li abbiamo ceduto oggi li ho detto ma sai veniva Francesco per nome è domanda per Francesco poi diamo anche qualche piccolissima anticipazione sì volevo fare una domanda a Francesco anzi più che altro volevo dire una cosa Francesco è bellissimo con il PGS vedere coinvolti tantissimi bambini che poi ovviamente già le società sportive lo fanno però è un altro indirizzo in più è un'altra realtà in più che aiuta a fare aggregazione sono in tanti da voi sì allora i bambini francamente non ho fatto neanche il conto però se ne riguarda sono attorno di 300 350 forse 400 sono tanti i bambini poi alla fine quindi sì sono tantissimi e l'organizzazione com'è? è complicata rispetto al numero quindi l'organizzazione può essere complicata? allora intanto mi sto prendendo meriti che sono solo in parte di me perché se non ci fosse stato Giorgio Persico che tra l'altro saluto salutiamo Giorgio Persico ciao Giorgio salutiamo anche Sara ciao Sara ciao Riccardo tutta la famiglia Persico che viene al barretto non sono parenti questi ogni tanto bisogna dirlo non si sa mai che poi tra l'altro parliamo di intrecci anche Sudoli perché Sara segue il bar segue da noi il barretto alla tavolera è tutto un giro però c'è un filone che tutti sono all'interno nell'ambito sportivo che è una cosa molto carina tutti danno una mano esatto diciamo così e quindi stavo dicendo senza Giorgio sarebbe stato veramente impossibile per me seguire questa cosa perché tra l'altro hai a che fare con i bambini che non gliene frega niente se no gli metti un pallone a giocare anche qui probabilmente fare il brun torneo in questa stanzetta ma di fatto devi combattere come diceva anche a Stefano con tutti gli impegni che hanno questi bambini tra catechismo rotture di scatole la nonna a cena la nonna a pranzo musica calcio i compiti della scuola perché c'è la scuola prima di tutto perché poi chi non fa fino alle 4 e mezza deve anche fare i compiti perché spesso quelli che escono più tardi li fanno per fortuna quasi tutti a scuola però di fatto è anche quello è veramente è stato è stato un lavoraccio che io probabilmente all'inizio ho sottovalutato che poi tra l'altro deve organizzare in tutti i campi abbiamo un roster di 12-14 arbitri che lavorano attivamente che sono quasi sempre a disposizione nostra tra virgolette addirittura con una disponibilità quasi insospettabile ti dico la verità perché gli impianti a disposizione degli impianti i campi che hanno messo a disposizione prima Cucureddo mi dimenticavo la società prima di Alghero mi stavo marciavo sulla punta e quindi adesso mi è venuto in mente in questo momento l'ultima che si è aggregata è stata quella di Appidi Antonello Cucureddo e quindi sono molto contento spero ripeto nel prossimo giro che la situazione vada ancora meglio va bene velocemente anticipazioni del Cigi tanto comunque ci interfacciamo io e te intanto sempre la politica in primo piano è di fatto cominciata la campagna elettorale perché c'è stata la chiusura delle liste insomma la data di sabato era una data importante quindi da oggi in poi via tutto quello che è la vera e propria campagna elettorale nella sua natura più più vera diciamo più faticosa anche più intensa poi parleremo di qualcosa di carino molto carino perché all'interno del telegiornale parleremo dell'arrivo di una signora che manca da 60 anni ad anghiere una signora che è vissuta in Argentina che ci è andata da quando era molto piccola con i suoi genitori e tutta la sua famiglia e dopo 60 anni ha rimesso piede sul suolo della riviera del Corallo questa mattina sono andati i parenti c'era anche il sindaco insomma ad accoglierla ed è una storia che effettivamente è bello raccontare ogni tanto queste storie fanno anche bene è ritornata a casa sua perché oltretutto da quello che leggevo nella nota del comune questa signora parla ancora all'algherese cioè non l'ha mai dimenticato l'ha tenuto parla all'algherese all'interno del telegiornale di oggi spazio anche alle eccellenze del territorio con una notizia che riguarda l'Accademia Olearia l'abbiamo fatto anche la settimana scorsa per quanto riguardava dei vini della cantina di Santa Maria La Palma e poi ampia pagina sportiva con i play-off del calcio a 5 le ultime partite dei vari campionati di calcio e poi anche tennis con dei risultati molto positivi da parte degli atleti del tennis club algero in questo caso di uno in particolare che è Nicolo Serra e poi chiudiamo con l'Algero Marathon che è sempre fucina di tanti talenti maratonetti che bene figurano quando vanno nei vari appuntamenti sia in Italia che in Sardegna poi anche in Europa e quindi questo è quanto per oggi e non è poco sono stata esauriente ti basta esaustiva io tornerei lì perché abbiamo da chiudere perché quando il direttore vuol dire che lì c'è qualcun altro che esatto che fa confezione bravo bravo che confezione questa è una televisione a preda porre noi ti cuciamo il vestito per te quando voi siamo esatto io mi sento oggi però un po' questa sedia è un po' e perché tu lo sai che cosa adesso dobbiamo dirlo poi vado via lui è ancora riduce da sabato perché te l'ha detto chiaramente invece in realtà stava girando una foto molto imbarazzante no no lo facciamo non ci perdere delle ascelle pezzate va bene dai però dobbiamo dire la verità perché aveva queste ascelle ha vissuto la tensione di questo di questo impegno dei playoff perché la Fuzzalaghero è in semifinale playoff lui che è dirigente di questa squadra non ve ne dico niente come direbbe qualcuno ho portato anche Vilma a tifare se ne diamo un contributo ma poi vedrete dovresti mandare uno screenshot uno screenshot poi lo girerò a Roberto vabbè io mi allontano grazie allora noi ci accingiamo alla conclusione in realtà mancano ancora una ventina di minuti avrete da che dire arrivederci ecco grazie grazie a Dolores grazie a Dolores che ovviamente sta confezionando il telegiornale che lo ricordiamo andrei non dalle 13 e 30 vi ricordiamo vi ribadiamo che potete ovviamente iscriverci sia via email all'indirizzo redazione.catalan.tv chiocela gmail.com ma anche tramite la nostra pagina facebook catalan tv abbiamo fatto un po' un quadro generale del riguardante in realtà spengo questo microfono abbiamo fatto un quadro generale del abbiamo parlato del centro commerciale naturale centro storico perché lo ricordiamo anche i nostri telespettatori chi magari ci sta seguendo solo adesso Francesco ovviamente presidente del no presidente del PGS presidente del comitato provinciale giusto del nord sardegna mi hanno appioppato anche Olbia e provinciale esatto pure Olbia e Tempio giusto per essere più leggero no? sì presidente del comitato nord sardegna del PGS quindi abbiamo fatto un po' una panoramica nel corso di questa puntata di quello che di quello che il PGS siete delle tante persone che alla fine riunisce possiamo dire possiamo dire così da dove siete partiti mi hai detto 60-70 adesso siete a oltre mille mille quasi mille e cinque forse andiamo verso i due adesso francamente ho perso un po' il conto con i bambini però adesso a maggio con la fine dell'estate insomma del testamento ordinario prima dell'estate secondo me arriveremo a sì 1800-2000 in generale numeri 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 molto importanti poi abbiamo parlato ovviamente anche del centro commerciale naturale centro storico che anche lì insomma racchiude tante tante attività tanti imprenditori tanti piccoli imprenditori voglio tornare però al PGS prima hai detto che ti piacerebbe anche magari includere la palla canestro c'è qualche altro sport oltre alla palla canestro che magari vorresti sviluppare anche se lo ricordiamo l'hai detto prima che insomma il tuo mandato si concluderà tra un annetto insomma c'è qualche altra sport in realtà parlando proprio di cruci che alla fine io sono stato il primo in Sardegna a importare il foot golf che era il calcio fatto con i piedi che si giocava all'arenoso in pratica al tennis club scusate al golf club che c'era prima vedi quella è stata probabilmente una come dire una un rimpianto perché poi ne parlo proprio qualche giorno fa perché poi Facebook impietoso ti cita dei ricordi due anni fa e mi è apparsa una foto in cui abbiamo fatto una premiazione dirà tra l'altro uno dice però è difficile qua perché poi la gente c'era lo stracismo del calciatore che non veniva perché aveva voglio fare brutta figura non capendo con una disciplina nuova però sono sicuro che adesso sarebbe stato sicuramente una situazione molto strutturata sono passati due anni all'ultimo torneo che abbiamo fatto ovviamente l'abbiamo dovuto chiudere per mancanza dell'impianto stesso perché poi è vero che un golf club si può reggere anzi può essere un indotto importante anche perché se non ci crede il foot golf stesso perché comunque probabilmente sono cinque le discipline adesso a livello non ancora coni diciamo non ancora dichiarati ufficiali che comunque hanno crescita a doppio numero diciamo e il foot golf è una di quelle quattro o cinque assieme al padel e ad altre tre o quattro discipline che stanno adesso spopolando soprattutto in tutta Europa il padel ha peso piede fortemente anche nel Cagliaritano però è chiaro che avere un golf club a disposizione per fare la disciplina è bisogno di una struttura fisica fissa e anche che abbia una determinata solidità di gestione perché altrimenti è complicato fare questa generativa lì non si può reggere viceversa il foot golf può reggere il golf è chiaro che alla fine deve essere una sorta di complementare quello è stato probabilmente un po' una sorta di cruccio cioè non perché ho mollato io ma perché non sappiamo mai dove sarebbe potuto arrivare mettiamola così ho provato anche a Florinas che anche lì c'è un golf club abbastanza però era su Alghero che alla fine poi siamo tutti quanti figli di casa nostra è vero perché poi esatto tra l'altro la struttura del golf club che non esiste non esiste più non esiste più da quando siamo andati via noi da quando ha mollato la vecchia l'ultimo direttivo insomma sì si partiva la mattina per fare i tagli d'erba molto particolari abbiamo portato tra l'altro anche una gara 30-35 iscritti cosa non da poco credendo che a livello nazionale parliamo di tappe comunque il master nazionale lo fanno a 180-190 persone molto belli però di fatto cominciare con una trentina di scappate di casa come dico io tutto sommato veramente era una cosa che insomma non ha era la scommessa di capire fin dove poteva arrivare purtroppo si è fermata ma chissà magari i futuri avremo dei campi da go non so ecco quello che forse si sta iniziando a capire tardi forse ad Alghero sperando che lo si stia iniziando a capire davvero è che lo sport può essere un importante traino per il turismo cioè si parla tanto da altre parti di turismo sportivo forse qua ad Alghero si sta iniziando a capire l'importanza insomma di eventi sportivi e non solo esatto l'evento sportivo in sé è un conto e va bene perché comunque figlio di una disciplina di una disciplina magari consolidata che va hai la spiaggia fai il beach quello che è però finisce lì perché finisce là ora era molto interessante ad esempio l'idea del sindaco che voleva fare una sorta di beach arena lì in Piantastante bisogna vedere poi se i modi i tempi e le maree lo consentiranno con un tempo del genere la vedo però magari si potrà veramente studiando bene la situazione farla magari mettendo rifrangi frutti non lo so non è campo mio quindi non voglio arrivare lì lasciare su quella situazione là però le situazioni strutturali sono sempre molto complicate io ho studiato veramente tanto sul fatto che Alghero secondo me è idonea per essere adesso la sparo addirittura una delle capitali del Mediterraneo per il turismo sportivo è chiaro che serve un tavolo un po' più grande di questo dove far sedere trasporti logistica organizzazione io mi sono trovato perché nel mio piccolo ho anche organizzato eventi abbastanza grandi tutto sommato e mi sono dovuto scontrare ovviamente con la situazione dell'utopia del prezzo troppo alto poi quando si va proprio ai canali referenziali nazionali a trovare come dire degli sbocchi per i prezzi e trovi posti in mia Romagna che fanno a 40 euro pensione completa non capisci come sia possibile questa cosa del genere però insomma è veramente complicato aggiungi ovviamente il calvario trasporti che c'è stato in questi periodi comunque siamo sempre un pochino c'è poco da fare e il fatto appunto che al contrario di quello che si vorrebbe fare qua a volte devi cozzare con i costi troppo alti ne parlavo stamattina proprio al telefono con Francesco abbiamo toccato proprio quell'argomento ieri abbiamo fatto le finali appunto al Palacorbia di quanto è complicato a volte far pernottare persone qui in determinati periodi soprattutto quando scoppia la rallymania quindi tra un paio di settimane tre settimane che scoppierà la rallymania ecco questo è un esempio di situazione estanziale molto forte e lì i prezzi cominciano un pochino ad andare alle stelle la disponibilità è quella che è abbiamo anche un'ecentività comunque di due o tre stelle che comunque si presta molto al ragazzo che comunque senza fronzo non ha bisogno di determinati servizi troppo top effettivamente lì un po' siamo carenti perché abbiamo parecchi quattro stelle o tre stelle sul mare però di fatto ci manca forse un'ecentività però ripensandola numeri alle mano e situazioni organizzate che a volte non trovano sbocco sono sicuro che Algaro può diventare veramente una delle piattaforme addirittura europee magari no ma del Mediterraneo sicuramente sì anche perché poi periodicamente devi lavorare con le congiunture del Mediterraneo quindi il Nord Africa a volte è un po' instabile in Turchia ci vado non lo so vediamo un pochino la Grecia quindi sai alla fine ti si scontra sempre con la splendida che sono Spagna Portogallo e Marocco e poco più ecco su questi altri aspetti forse dovremmo un po' il tavolo un po' più ampio esatto sarebbero due o tre di questi anche quattro fai ecco forse su questi aspetti su altri dovremmo tra virgolette un po' imparare o comunque prendere esempio magari la riviera romagnola no? a volte si prende molto ad esempio proprio quella parte quella parte d'Italia che senza nulla offendere i romagnoli però a livello di spiagge e quant'altro noi facciamo 10 a 0 ovviamente 10 no forse di più anche di 10 io ci sono stato e quindi confermo però diciamo ecco da altri punti di vista purtroppo dobbiamo forse dobbiamo imparare dobbiamo pagare pegno io sinceramente sono una persona che guarda sempre il buono degli altri dal punto di vista di quello che si lavora dal punto di vista operativo di quello che è l'offerta e quando sono andato a Misano piuttosto che a Cesenatico piuttosto che a Igea a Lignano Sabbiadoro a Lignano Sabbiadoro a Lignano Sabbiadoro mi sono accorto cioè non me no nel senso io non apro bocca non apro bocca perché devo solo imparare sono quelle cose ma non perché non hai argomenti ma perché cerchi di capire nelle pochi minuti che hai a disposizione con un'amministrazione comunale con un'amministrazione regionale con un dirigente con altre cose è veramente quello che di buono si fa in quei posti in una determinata direzione che è quella di portare indotto benessere e turismo perché parliamo comunque di indotti molto importanti di bassa stagione tra l'altro non luglio-agosto perché loro non hanno un picco esorbitante come abbiamo noi ad agosto ma ce l'hanno comunque cadenzato tutto all'anno tanto è vero che gli alberghi lì aprono 11 mesi all'anno forse è la tanto famosa destra giornalizzazione di cui si parla in Sardegna che puntualmente ed è una delle chiavi il turismo sportivo perché se uno o fascicoli o come si chiama quella piattaforma Dropbox piena di Dropbox avrò probabilmente 180-200 file e forse mille pagine scritte appuntate e riportate anche lì a volte il tempo è malandrino e figlio di non voler buttare giù troppe situazioni però guarda ripeto al prossimo giro probabilmente fra un anno ci vedremo sono sicuro che questa trasmissione andrà a gonfie vele quindi fra un anno saremo ancora qui e parleremo magari di un progetto compiuto anche in altre zone della Sardegna va bene va bene siamo quasi in conclusione chiudiamo un po' leggermente in anticipo questa puntata di Radio Catalan io ringrazio Francesco Pepp per questa lunga chiacchierata bella e interessante sicuramente ha offerto anche spunti secondo me ha offerto anche qualche spunto a qualche a qualche candidato non parliamo del palazzo dei congressi mamma mia non parliamo del palazzo dei congressi no no secondo me c'è uscito quei post simpatici cosa fanno per il prossimo giro con i cartelli esatto quindi ti mi fa fermare che ormai il palazzo dei congressi sia ormai da vent'anni possiamo dire nell'agenda politica tra le righe qualche suggerimento c'era io tra l'altro io la butto lì io la ho una bella un bel palazzetto adesso magari parlo perché sono di parte anche lì ho chi non fa però lì un bel palazzetto non lo vedrei male anche io perché c'è chi vorrebbe buttarlo via giù tutto invece secondo me no invece secondo me si potrebbe recuperare quella struttura no ma anche perché là la scommessa deve superare la promessa in quel caso perché lì la promessa era di un'estensione probabilmente anche utopica non lo so di una situazione di continuità alberghiera parliamo di quella situazione in previsione del turismo congressuale esattamente quindi è evidente che è nato con lo scopo ma adesso deve diventare una scommessa è chiaro che non puoi buttare a terra quella roba lì perché sarebbe anche una sconfitta alla fine è vero 9 giugno abbiamo la junior league le finali regionali al campo sporting alla taulera dietro all'ospedale civile siete tutti invitati a dare una sbirciata ci saranno tanti bambini e tanti genitori e tanti presenteremo anche la prossima stagione faremo le premazioni della stagione premieremo anche con qualche settimana di ritardo la scuza d'alghero che ha vinto i campionati esattamente un anno e qualcosa fa no un anno fa dai e chiuderemo la stagione poi il 16 giugno al palazzetto del pala corbia con le finali regionali di karate invece di arti marziali che anche là si prevederà un buon afflusso di ragazzi bambini la abbiamo anche parecchi ragazzi grandi perché fanno il combattimento vabbè ti mando una nota perché in qualche telegiornale prima o poi passerà comunque 9 giugno junior league al campo della tavolera dalla mattina fino a sere in oltrata dove faremo anche le premiazioni e procederemo poi alla presentazione della prossima stagione il 16 giugno al pala corbia per le finali di karate quindi lo dico anche ma qualche società che si vuole avvicinare al nostro mondo noi non mordiamo nessuno anzi abbiamo bisogno di persone che capiscono di questa situazione e di sport in generale certo perfetto va benissimo grazie a Francesco grazie a tutti vi ricordo ovviamente fra circa due ore la prima edizione del nostro telegiornale quindi alle 13.30 con i principali fatti di giornata Radio Catano invece tornerà mercoledì domani non andrà in onda quindi insomma vi preannunciamo già che domani la puntata in diretta di Radio Catano non ci sarà tornerà mercoledì sarà condotta da Dolores Serra grazie a dopo con il telegiornale grazie a tutti 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 grazie a tutti